Vado a mare di Candy Luke Come vi dicevo che Candy Luke è un nuovo brand di abbigliamento femminile made in Italy e propone due linee, la linea basic abbigliamento casual ma al tempo stesso elegante e comodo e la limited edition di cui è presente chiaramente sempre un solo capo in un'unica taglia e quindi un capo assolutamente unico nel mondo. I capi vengono progettati e prodotti esclusivamente in Italia, quindi è una cosa importante da sottolineare per valorizzare il made in Italy. Vengono progettati e prodotti esclusivi e di noi, quindi è un sacco di giù, e quindi è un sacco di gioco. Vengono progetti e prodotti esclusivamente in cortesia, invece è un sacco di gioco, il piccolo ORTIL, ma ti sento un sacco di sfogliamento in pancherella. Ecco qua tante paillettes! Ecco le modi per le prossime connessioni, tantissime paillettes! Nooooooo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.